Essere familiari di Gesù significa ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Così siamo figli liberi che abitano nella casa del Signore, non come quei cristiani che non osano avvicinarsi a Dio. Papa Francesco lo ha ricordato nell'Omeria della Messa del Mattino a casa Santa Marta, commentando il brano del Vangelo di Luca, nel quale Gesù chiama fratelli e famiglia coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. È il primo comandamento di Gesù, ha aggiunto il Papa, e chi ha questo atteggiamento di familiarità col Signore, parla con lui nell'autobus, nella metro, interiormente, oppure sa che Dio gli è vicino. Questo è sentirsi della famiglia di Gesù. Significa prima entrare nella casa di Gesù. Entrare. Entrare in quella mofera, vivere quella mofera che è nella casa di Gesù. Vivere lì. Contemplare. Essere liberi lì. Perché i figli sono i liberi. Quelli che abitano a casa del Signore sono i liberi. Quelli che hanno familiarità con Lui sono i liberi. Gli altri, usando una parola della Bibbia, sono i figli della schiava, diciamo così. Quelli che, sì, sono cristiani, ma non ossano avvicinarsi. Non ossano avere questa familiarità col Signore. E sempre c'è una distanza che li separa dal Signore. Parola della Bibbia, Intelligually bambi. Lo darizzero dietro fino per La Bibbia. Parola della Bibbia. Grazie a tutti